Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Parliamo in apertura dei rincari sui pedaggi autostradali, in particolare sulla A24 e la A25. Aumenta dunque il costo da un provvedimento di autostrada dei parchi ed è subito polemica, in questo caso con Selle e Rifondazione Comunista che si schierano a difesa dei pendolari che subiranno le conseguenze più gravi. Il servizio di Francesca Romana Testi. Aumenti i record in Abruzzo per il pedaggio autostradale su A24 e A25. Scoppia la polemica sull'autostrada dei parchi del gruppo Toto che ormai da anni fissa al primo gennaio il rincaro. Da un lato la preoccupazione dei pendolari e dall'altra le contestazioni da parte di chi dice che il governatore D'Alfonso avrebbe potuto agire in tempo per evitarlo. Il presidente della regione è anche un dirigente dell'ANAS, quindi un esperto della materia. Non so se anche all'ANAS abbia fatto le stesse cose. Comunque D'Alfonso doveva attivarsi per tempo e non essere tallonato dall'opposizione di centrodestra per un intervento rispetto al rincaro delle tariffe. Perché queste cose D'Alfonso le conosce come le sue tasche e quindi avrebbe dovuto fare un'azione che non c'è stata. Il presidente è ovunque ma quando serve non c'è. Insomma la politica è al servizio di questi concessionari. In Abruzzo poi in particolare arriviamo il top perché abbiamo l'attuale presidente che è in sede processuale per difendersi rispetto alle elargizioni di vario tipo, denaro, viaggi eccetera, che riceveva regali, che riceveva da Toto, si è difeso dicendo che lui era il damo di compagnia ed era di famiglia. Quindi c'è un conflitto di interesse enorme. Quasi 20 euro per la tratta Chieti-Roma, 185 chilometri in tutto e intanto la società Toto S.p.a. giustifica il rincaro adducendo una tassazione al 57% e un 43% destinato invece al mantenimento dei servizi. Innanzitutto noi non dimentichiamo mai che l'autostrada è stata finanziata dallo Stato, quindi dai cittadini e dalla fiscalità generale. Come per altre autostrade poi a un certo punto sono intervenuti i privati che hanno delle concessioni. Ora queste concessioni però non possono significare che l'infrastruttura va in degrado, non c'è un'adeguata manutenzione e i profitti vengono incamerati dai privati. Ora questo non vuol dire da parte mia ignorare i problemi che ci sono, per carità stiamo parlando di un'autostrada di montagna, di un'autostrada che ha un bisogno particolare di cura e di manutenzione. Però non può essere fatto sempre e solo a carico dei cittadini e degli autotrasportatori e degli utenti che a volte utilizzano l'autostrada solo per andare a lavorare. L'Abruzzo inizia il 2016 con l'arrivo di fondi destinati al rischio idrogeologico e con l'annuncio dell'attuazione del piano cave mai applicato dalla sua istituzione ormai lontano 1978. Il sottosegretario Mario Mazzocca spiega i provvedimenti in corso e le preoccupazioni per l'arrivo del maltempo. Approvazione del bilancio della Giunta alle prime ore del 31 dicembre scorso. Se da un lato si approva il piano con i capitoli di spesa per il 2016, dall'altro il giorno di San Silvestro sono arrivati gli ultimi fondi per l'imponente opera di messa in sicurezza del territorio contro il rischio idrogeologico. E' una preoccupazione, lo sarà sempre, tant'è che da poco abbiamo presentato il nostro piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Non è un caso che a livello mondiale, europeo, quindi anche italiano, si parli sempre più di adattamento e sempre meno di mitigazione del rischio. E quindi credo che sia una misura non solo indispensabile ma che ci permetterà di economizzare sulle risorse altrove allocabili se noi agiamo anche qui bene, in tempi certi e risoluti. Abbiamo, anche qui prima Regione d'Italia, lanciato questo piano alla fine di dicembre, dopo l'esperienza svolta presso la Coppa 21 a Parigi, anche in rappresentanza del governo italiano, oltre che della Commissione europea. Come Regione eravamo stati scelti all'Uopo e proprio in queste ore, il 31, abbiamo ricevuto un ulteriore tassello, abbiamo concretizzato un ulteriore tassello di questa strategia. Tra i propositi per il nuovo anno, poi l'assessore Mario Mazzocca annuncia l'attuazione del cosiddetto piano cave, introdotto nel lontano 1978 e mai applicato fino ad oggi. Tecnicamente si ha un piano regionale per le attività estrattive, la regione abruzza era unica a non averla anche qui, nonostante in passato fosse stato annunciato ripetutamente. E' un piano che ci permetterà di incidere in maniera, ci aspettiamo noi, sicuramente benefica per lo stato del territorio, soprattutto per quanto attiene il consumo dell'uso del suolo che necessita sicuramente di una regolamentazione ormai al passo con i tempi. Avvieremo a breve le attività di consultazioni con i portatori di interesse generale e particolare affinché questo piano diventi a presto, assurga una dimensione pienamente operativa. Se la piccola Beatrice è la prima neonata del 2016, la nascita è avvenuta nell'ospedale di Pescara, quest'oggi il sindaco di Teramo, Maurizio Bruc, ha effettuato la canonica visita istituzionale all'ospedale Terramano per vedere, per salutare la prima nata a Teramo, chiaramente del nuovo anno, il 2016. Dottoressa Marcozzi, il primo nato si chiama Matteo quest'anno e c'è anche l'ultimo? Sì, il primo nato è Matteo alle 9.42 del primo gennaio. L'ultimo nato è del 30, purtroppo, la mattina. Quindi diciamo che nonostante le tante pance qui ricoverate, le signore hanno soprasseduto ad un parto peri mezzanotte che ci sarebbe piaciuto. Il primo nato a Teramo si chiama Matteo. Grande soddisfazione anche per la classica visita al primo nato del primo cittadino. Sì, certo, noi non ce l'aspettavamo anche perché è nato anche abbastanza tardi, se vogliamo, quindi erano le 9.43 e invece stranamente in provincia perlomeno non c'era stata nessun'altra nascita e quindi abbiamo avuto anche questa sorpresa. Il nome Matteo perché? Il nome Matteo diciamo che è merito soprattutto della madre perché è un nome che piaceva tanto a lei fin da bambina e piace anche a me, quindi è andata bene così. Sono troppo contenta, insomma, a prescindere da quando sia nato, quindi sono contenta che sia avvenuto tutto questo e sono contenta soprattutto per lui perché appunto avendo vissuto questa esperienza, anche se ora è inconsapevole di quello che gli accade, però sarà bello poi quando crescerà magari raccontargli quanto sia stato importante anche a parte per noi naturalmente, anche mediaticamente. È stato finora un inverno mite come temperature, però sono in arrivo appunto delle precipitazioni e soprattutto sono in calo le temperature. Questo dicono le previsioni, di questo parlavano le previsioni fino a qualche giorno fa. Noi ora chiediamo conferma a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo, cui do il buongiorno e chiaramente anche il buon anno. Giovanni De Palma. Buongiorno Andrea, buongiorno e buon anno a te e a tutti i telespettatori. Allora, temperature in abbassamento? Ma diciamo Andrea che le temperature saranno un po' altalenanti perché la nostra penisola sarà interessata da perturbazioni atlantiche che si suspegiranno nel corso dei prossimi giorni. La prima della serie arriverà nelle prossime ore, sta già coprendo il cielo anche sulla nostra regione, ma si manifesterà soprattutto nel pomeriggio sera, in nottata e nella giornata di domani. Con delle precipitazioni in intensificazione soprattutto sulla Massica e nell'Aquilano e sulle zone montuose. Mentre sul versante orientale i fenomeni saranno meno frequenti a carattere spasso, ma saranno più probabili nella mattinata di domani. Le temperature sono previste in temporaneo aumento per effetto di eventi occidentali previsti in rinforzo. Poi da domani torneranno a diminuire, ma nuove perturbazioni si susseguiranno, come ha anticipato Focanzi, nei prossimi giorni. Il lunedì transiterà un nuovo sistema nuvoloso sospinto da correnti occidentali che sul versante orientale favoriranno un nuovo aumento delle temperature. Poi giungeranno le precipitazioni che riporteranno le temperature in ribasso, ma comunque saranno sempre al di sopra delle medie stagionali, Andrea. Ci saranno sì delle precipitazioni, ma la nota positiva sarà il vento. Il vento è previsto comunque in rinforzo e questa è una buona notizia alla luce delle ultime notizie di cronaca riguardo all'aumento dei tassi di inquinamento nei grandi centri urbani che dovrebbe alleviarsi, insomma dovrebbe attenuarsi proprio per eventi previsti in rinforzo e anche per le precipitazioni. Comunque perturbazioni almeno fino a giovedì. Poi successivamente Andrea sembra provare l'arrivo di una nuova rimonta dell'alta pressione che alla luce dei dati attuali a nostra disposizione sembra poter dar luogo a un nuovo deciso miglioramento del tempo. Ma ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti. Senti, neve, ne vedremo con l'arrivo di queste precipitazioni, Giovanni? Sì, sui nostri rilievi sì, ovviamente la quota neve prima sarà piuttosto elevata, intorno ai 1.400-1.600 metri perché insomma sono previste temperature in aumento, in nottate nella mattinata di domani tenderanno nuovamente ad abbassarsi le temperature quindi la neve scenderà intorno ai 1.200-1.300 metri per poi risalire nuovamente nei prossimi giorni perché arrivano le correnti occidentali, quindi correnti occidentali che favoriranno però nevicate sui rilievi che si affacciano ad ovest quindi sui rilievi occidentali della nostra regione, quindi la Marsica e l'Aquilano saranno interessati da precipitazioni più frequenti e nevicate più frequenti. Certo non saranno copiose le nevicate ma comunque almeno avremo una situazione diversa da quella che è stata nelle scorse settimane perché l'ultima perturbazione di rilievo risiale addirittura a fine novembre del 2015, Andrea. Grazie Giovanni, di nuovo buon anno e buona giornata. Grazie Andrea, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma, proseguiamo il nostro Tg, aperte le buste che hanno indicato nell'azienda Leitner, colei che seguirà i lavori della seggiovia Le Fontari sarà ristrutturato anche lo storico albergo di Campo Imperatore e verranno sistemati i valloni. Sarà la ditta Leitner ad eseguire lavori sulla seggiovia delle Fontari nella stazione sciistica di Campo Imperatore. L'apertura delle buste ha portato a questo risultato. Ora ovviamente ci sarà da predisporre il nuovo progetto che dovrà tener conto delle disposizioni della Commissione Via Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo che a dicembre, come sapete, ha imposto delle modifiche accogliendo le obiezioni degli ambientalisti. Secondo la proposta iniziale, infatti, c'era una modifica nell'attuale tracciato e l'impianto sarebbe dovuto sorgere più a valle. Salvo quindi a fine 2015 il contributo FAS per realizzare l'opera un risultato molto importante secondo il sindaco Massimo Cialente. Sui fondi previsti per il rilancio del centro turistico c'è stata una rimodulazione, 7 milioni destinati alle Fontari. Per ora, come primo intervento, ci sarà la ristrutturazione dell'albergo di Campo Imperatore e poi anche la sistemazione dei valloni e lo snow park, prima di provvedere poi ai lavori sulle Fontari che inizieranno nei primi mesi del 2016. E ora la cronaca, parliamo dell'incendio che si è scaturito la scorsa notte presso un'attività di autodemolizione in Contrada Carapollo a Teramo. Un incendio, molto probabilmente di origine dolosa, ha distrutto la scorsa notte una zona dell'impianto di autodemolizione in Contrada Carapollo a Teramo. Le fiamme, originatesi da due autovetture accatastate per la rottamazione, si sono velocemente estese ad altre macchine stoccate nell'ampio cortile, impegnando squadre di vigili del fuoco dei comandi di Teramo, Pescara e Ascoli Piceno, sette i mezzi dei vigili del fuoco presenti, con autobotti e uomini, in lotta per domare le fiamme, dalla mezzanotte fino all'alba di oggi. Diverse le esplosioni dei serbatoi delle vetture in demolizione, presenti militari e agenti di carabinieri e polizia, oltre a tantissimi curiosi. Sono ora al lavoro gli uomini della scientifica della Polizia di Stato di Teramo e i tecnici dei vigili del fuoco, i cui rilievi tendono a far emergere la causa dell'incendio, la cui origine, come detto, potrebbe non essere accidentale, considerata allora e il materiale oggetto del rogo. Vecchie autovetture, sì, con residui di combustibile nei serbatoi, ma in assenza di inneschi. L'incendio, che ha attratto numerosi curiosi, era visibile dalla vicina Teramo Mare, ma anche dalla città, essendo molto alte le fiamme e ben visibili anche a chilometri di distanza. Gli abitanti delle zone limitrofe hanno rivissuto ore di panico per il rischio di estensione del fuoco, come avvenne molti anni fa, sempre nello stesso impianto di autodemolizione. Era il 30 agosto del 2007 e allora lo sfascio andò completamente distrutto e poi ricostruito ex novo. Aveva preso una stanza singola in un albergo del centro a Bologna il 31 dicembre e lì è stato trovato morto ieri, probabilmente per una overdose di droga. L'uomo, un 42enne originario di Napoli, ma residente a Pescara, era riverso in bagno con vicino una siringa. In via Goito è intervenuta la polizia di Stato ed è stata disposta l'autopsia. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un uomo di Paganica per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Grande lavoro nell'ultima notte dell'anno anche per gli operatori del 118. Fine dell'anno di lavoro per gli agenti della questura dell'Aquila che hanno arrestato un 49enne di Paganica per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trovato in possesso di un etto di cocaina e 55 grammi di sostanza da taglio. L'arresto è avvenuto in seguito a un posto di blocco effettuato dagli uomini della squadra mobile nei prezzi del casello della 24 dell'Aquila Ovest. La perquisizione personale operata nei confronti del 49enne ha dato esito negativo mentre quella effettuata sulla vettura, una Fiat Grande Punto, ha permesso agli uomini in divisa di trovare, ben nascosti sotto il vano portoggetti del lato passeggero, due involucri di cellofan trasparente contenenti uno 100 grammi circa lordi di cocaina e l'altro 55 grammi circa di sostanza da taglio insieme a un bilancino di precisione. L'uomo è stato messo ai domiciliari su disposizione del jeep Guendalina Buccella a seguito di convalida chiesta dal magistrato di turno, la dottoressa Picardi. Ultimo dell'anno di lavoro, come ogni anno, anche per il pronto soccorso dell'Aquila che ha registrato diversi malori a causa dell'abuso di alcol. Per un ragazzo in particolare è stato necessario l'intervento del 118 con l'ambulanza e il giovane si trovava in piazza Duomo per festeggiare con gli amici l'arrivo del nuovo anno. Oltre a questo intervento, diversi sono stati effettuati direttamente al nosocomio aquilano sempre per lo stesso motivo. In vista delle prossime elezioni amministrative in Abruzzo e a seguito di valutazioni il senatore Paolo Arrigoni, attualmente la guida regionale di Noi Salvini in Abruzzo ha nominato i seguenti coordinatori provinciali Alfonso Magliocco per la provincia dell'Aquila, Federico Di Palma per la provincia di Chieti Andrea Fantauzzi per la provincia di Pescara e Antonio Lattanzi per la provincia di Teramo. E ora torniamo a Teramo e lo facciamo con l'intervista al primo cittadino Maurizio Brucchi che traccia un bilancio dell'attività svolta in comune nel 2015 e annuncia anche le principali priorità, i principali interventi da fare in questo inizio di 2016. Sindaco, il 2015 Teramano, com'è stato? È stato un anno positivo, un anno dove abbiamo lavorato tanto, sicuramente un anno migliore del 2014, non c'è dubbio, un anno però dove abbiamo fatto tante cose perché abbiamo continuato il lavoro sulla revisione della spesa, abbiamo ridotto di quasi 3 milioni di Euro la spesa sul personale e entro il 2017 a questi 3 milioni si aggiungerà un altro milione, con quasi 100 persone che vanno in prepensionamento. Abbiamo lavorato anche sulla riduzione delle tasse, vorrei dire che per il secondo anno consecutivo abbiamo ridotto la Tari, cosa che noi abbiamo fatto, gli altri comuni hanno annunciato, ne abbiamo fatto. Quasi 15 milioni di Euro di opere pubbliche, 870 mila Euro di manutenzioni, poche, ma le abbiamo comunque spese e ci sono altri 9 milioni pronti per il 2016 per nuove opere pubbliche. Di errori ne abbiamo commessi e guai se così non fosse, abbiamo inserito la compartecipazione sul sociale e poi abbiamo dovuto rivedere un po' il discorso condividendo, ma questo ci sta. Un buon amministratore questo fa, se si rende conto che c'è un piccolo errore torna indietro e questo l'abbiamo saputo fare. Programmazione per il 2016? Ma guardi, io ho indicato 4 progetti strategici, poi ce ne saranno tanti. Sicuramente il recupero dell'ex manicomio, 35 milioni di Euro che la Regione ha messo su questo progetto credo che aprirà la strada al recupero dell'ex manicomio. Poi sicuramente il Porferzi, 5 milioni di Euro per la mobilità alternativa, per la banda ultralarga e per la cultura. Teramo città è prima una bicicletta, ora basta con gli indugi, bisogna applicare questo progetto nel quale crediamo e che ci ha fatto vincere per ben due volte le elezioni e poi la cura e il decoro della città. Ce ne è bisogno almeno un mutuo di un milione di Euro. Parlavamo prima con il meteorologo Giovanni De Palma dell'arrivo dei venti nei prossimi giorni un arrivo che sarà funzionale anche per scacciare via le polveri sottili e alleviare l'emergenza smog. A Pescara comunque si lavora e dei provvedimenti sono stati presi proprio per fronteggiare l'inquinamento atmosferico e scatteranno le targhe alterne dal 12 gennaio e per i prossimi tre mesi. Targhe alterne a Pescara a partire dal prossimo martedì 12 gennaio e non più dal 5, come annunciato precedentemente. La notizia viene ufficializzata insieme a quella che il provvedimento andrà avanti per tre mesi anche in caso di piogge. Martedì giornata dedicata alle targhe pari e il giovedì solo le dispari. Assumeremo un provvedimento che vuole andare incontro a due esigenze. Una quella di combattere l'inquinamento atmosferico attraverso la riduzione delle emissioni delle polveri sottili sia per quanto riguarda il traffico veicolare ma anche per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento. L'altro ridurre lo stesso traffico veicolare che comunque è una componente diciamo importante e negativa per quanto riguarda la vita nella città di Pescara. E poi una polemica a margine. Il centrodestra accusa l'amministrazione di aver posticipato di una settimana l'avvio del provvedimento per non intralciare i saldi e del vecchio smentisce l'accusa. Devo dire che è assolutamente infondata. Predisporre tutto l'occorrente da quelli che sono i piani per le linee urbane, da quelli che sono i provvedimenti che devono essere messi, da quella che è la comunicazione che bisogna fare. Perché senza una comunicazione efficace e efficiente rischiamo più disagi di quanti vogliamo evitarne. Quindi nessun escamotage per salvare questa o quella organizzazione. Assolutamente una riflessione di buonsenso che è venuta dal tavolo. In generale tutti quanti hanno detto Assessore, guardi bene che lei non ce la fa a partire dal 5 perché è una data troppo ravvicinata. La fusione di Pescara Montesivano e Spoltore dopo il voto favorevole dei cittadini resta inattuata. La grande Pescara ad oggi non esiste e i radicali annunciano lo sciopero della fame dalla mezzanotte di oggi. L'annuncio è quello dello sciopero della fame a partire dalla mezzanotte di oggi. A farlo sono i rappresentanti dei radicali abruzzesi che protestano contro il non rispetto della volontà espressa con il voto a favore della fusione dei tre comuni Pescara, Montesilvano e Spoltore. La grande Pescara resta un'utopia. Dunque ci troviamo dinanzi alla maggioranza dei cittadini di Spoltore, di Montesilvano e di Pescara che chiede di fondersi in un unico comune. Io ritengo che questo referendum, benché nato con finalità consultive, oggi abbia una valenza che è politicamente invece obbligatoria, vincolante per il Consiglio regionale. Naturalmente alla politica resta la facoltà, direi l'obbligo, di determinare in che modo questa fusione dovrà essere regolamentata. Ma sulla circostanza che i tre comuni debbano fondersi, credo non si possa più procrastinare la scelta. Una grave mancanza di democrazia, spiegano i radicali, che annunciano lo sciopero della fame ad oltranza fino ad un concreto intervento della Regione. Si è arrivati vicini alla decisione. Adesso il provvedimento è tornato in commissione, sperando forse di rimandare alle calende greche la definizione della faccenda. Noi riteniamo che non si possa più aspettare, non si possa più tollerare. La democrazia non può aspettare, non può soprattutto essere presa in giro la volontà dei cittadini. Ha detto che sarà uno sciopero della fame ad oltranza, quindi chi dovrà intervenire per bloccarlo? Dovrà intervenire il Consiglio regionale, approvando, come le dicevo, o comunque dando un segno concreto in quella direzione, questo tipo di provvedimento. Ora apriamo la pagina sportiva a circa due giorni dalla riapertura del mercato, la fase di gennaio, quella invernale. Chiaramente sono tante le voci, le trattative per affari che stanno per arrivare a destinazione, e manca solo la formalizzazione, altri invece da approntare. Abbiamo fatto il punto della situazione in casa Pescara, dove continua comunque il pressing sull'attaccante della Virtus Lanciano, Antonio Piccolo, ma i particolari nel servizio. Resta Antonio Piccolo il principale obiettivo di mercato per potenziare il reparto offensivo del Pescara. Agli 11 gol di La Padula e i 6 di Caprari, Massimo Oddo vorrebbe aggiungere un giocatore da 8 gol nel girone d'andata, un attaccante che oltre a vedere bene la porta potrebbe, per duttilità e caratteristiche, ben integrarsi con i potenziali compagni di reparto. Seconda punta o esterno da 4-3-3, Piccolo può rendere bene con diversi moduli. Resta però da fronteggiare la concorrenza, del Novara, ma più ancora dello Spezia, che sul piatto ha messo un ingaggio importante e allettante per l'attaccante napoletano. Il Pescara può far valere i buoni uffici tra le due proprietà, ma anche il fatto che Piccolo ha una compagna abruzzese e potrebbe decidere di non allontanarsi troppo da Lanciano. Insomma, aspetta al giocatore l'ultima parola, con la dirigenza frentana pronta a muoversi di conseguenza. L'arrivo di Piccolo può rimettere in discussione Andrea Cocco. Il centravanti cagliaritano ha caratteristiche diverse da Piccolo, ma un eventuale arrivo dell'attaccante della Virtus potrebbe far scivolare Cocco, ancora più in basso nelle gerarchie di Oddo. A quel punto varrebbe la pena restare, cercando di sbloccarsi nel giro di ritorno, o sarebbe opportuno cambiare aria. Il Vicenza lo riprenderebbe volentieri, ma il nodo, in questo caso è la formula, il prestito secco, non è pienamente gradito all'entourage biancazzurro. Sempre per l'attacco potrebbe esserci un ritorno di fiamma per il ganese Richmond Boachy, che ha visto chiudersi anzitempo la sua esperienza in Olanda al Roda, tornando così all'Atalanta. Per la difesa si fa sempre più concreto l'arrivo in biancazzurro di Maurizio Domizzi, il difensore garantisce il giusto livello di esperienza e cattiveria, che per molto tempo sono mancate al Pescara, in concomitanza con le assenze di Campagnaro. Il modo migliore dunque è di tutelarsi da eventuali ricadute che dovessero interessare il difensore argentino. Domizzi prenderà il posto lasciato libero da Bunoza, prossimo alla risoluzione del contratto. A centrocampi il Pescara farà qualcosa, anche perché Torreira andrà alla Sampdoria, che da quest'estate è proprietaria del cartellino dell'Uruguayano. Torreira quasi certamente sarà poi rigirato in prestito sempre in cadetteria, data questa partenza. E dato che Memushain nella parte finale della stagione risponderà alla convocazione della Nazionale per gli europei, il reparto andrà puntellato anche al netto dell'arrivo in prestito del marocchino Ekmaidat. E ora il punto della situazione anche in casa Virtus Lanciano, dove dalla prossima settimana, proprio con la riapertura del mercato, dovrebbe prendere forma l'esodo, purtroppo, di diversi giocatori quotati della rossa-rossonera, questo per esigenze di bilancio. Il gennaio del grande esodo rosso-nero è appena iniziato e dalla prossima settimana, con l'apertura ufficiale del mercato, dalle parole si andrà ai fatti. Già detto di Antonio Piccolo, che dovrà decidere il suo destino, avendo almeno tre squadre fortemente interessate al suo arrivo, in via di definizione la situazione di Raffaele Pucino. Il difensore lascerà Lanciano e tramite il Chievo Verona, società proprietaria del cartellino, sarà girato in prestito all'Avellino, dove giocherà la seconda parte del campionato. Gli Irpini hanno vinto la concorrenza della Ternana. Su Guido Marilungo, attaccante in prestito dall'Atalanta, è intervenuto nei giorni scorsi il presidente del Perugia, Santo Padre, che non si è sbilanciato. Non abbiamo ancora chiuso per Marilungo, non parlo, finché non ci saranno le firme, ha detto il numero uno perugino, ma salvo clamorosi colpi di scena, l'affare andrà in porto. Potrebbe salutare dopo otto anni la Virtus Lanciano, il capitano Mammarella, su cui c'è Lascoli, ma anche il Pescara sta facendo un pensierino per riportare a casa il difensore dal sinistro fatato, nonostante un'età calcisticamente avanzata. Un altro elemento della vecchia guardia, che potrebbe essere ai saluti, è Gaetano Vastola, impiegato a corrente alternata nella prima parte della stagione. L'esperta Mezzala può rientrare nei piani dell'ambiziosa Robursiena, in Lega Pro, che dopo un girone d'andata non all'altezza, sta ristrutturando l'organico e ha messo lo stesso Vastola nel mirino. Il centrocampista Luca Crecco, di proprietà della Lazio, ha trovato poco spazio e potrebbe andare via, anche se la sua posizione potrebbe essere rivalutata. Le tante partenze possono portare ad un ruolo di titolare più stabile nella seconda parte della stagione. Da capire però il contesto e la competitività di una squadra che uscirà molto cambiata, praticamente rivoluzionata dal mercato. Anche le posizioni dei vari Paghera, Bacinovic e Ferrari, restano da valutare. Uno stravolgimento necessario per far quadrare i conti della società, così resteranno i giocatori con un contratto più economicamente sostenibile e gli arrivi saranno condizionati dalla volontà di alcuni club di pagare stipendi ai giocatori che gireranno in prestito in Frentania. L'operazione Salvezza, alla luce di questi fatti, sembra una mission impossible, a meno che non prenda quota, ma i tempi sono molto ristretti, l'ipotesi della cessione societaria. Con più liquidità da immettere sul mercato, in parte lo scenario cambierebbe. E ora la Lega Pro in attesa dell'apertura ufficiale del calciomercato. Il direttore sportivo dell'Aquila Calcio, Alessandro Battisti, attende la risposta del difensore Pesoli, di proprietà della Pescara. Intanto alla comitiva Rosso Blu si è aggiunto un portiere. La società sta valutando anche per via dell'emergenza nel reparto, soprattutto per la partita di sabato prossimo con la Lupa Roma, con Zandrini squalificato e con Savelloni infortunato. Tiene banco il mercato in casa dell'Aquila Calcio. In questi giorni, prima di lunedì, è attesa la risposta del difensore Emanuele Pesoli, che si è preso qualche giorno per decidere. Il direttore sportivo, Alessandro Battisti, resta alla finestra. Noi ci siamo dati come indicativamente, prima della riapertura delle liste, quindi prima di lunedì, io mi auguro che tra oggi e domani ci possa essere una risposta, poi a prescindere da quella che possa essere, io non poi dopo vedrà, insomma. Io mi auguro che possa essere il giocatore che sposi il nostro progetto, altrimenti andremo per altre direzioni. La squadra anche ieri, primo dell'anno, ha sostenuto una seduta di allenamento. Si è aggregato il portiere Francesco Scotti, classe 83, che il DS sta valutando. Ma il portiere è Francesco Scotti, è un ragazzo che è un ragazzo, non più tanto ragazzo, 83 che ha una buona esperienza di Lega, però è maturata fondamentalmente in Romagna, anche se lui è romano, è origine nel settore giornale della Lazio. Vediamo, noi stiamo valutando per alcune situazioni, fondamentalmente anche per valutare un po' la riapertura del campionato, dove abbiamo Sandrini squalificato e Savelloni con un infortunio e noi la società sa che è quella per noi è una partita importantissima, quindi stiamo valutando anche per quella situazione lì e poi fondamentalmente noi non avendo il terzo portiere potrebbe anche essere una situazione... Abbiamo Mattias e Funari che in prospettiva ha un ottimo profilo, però potremmo anche pensare e valutare l'ipotesi di tesserarne. Resta in prova anche l'esterno ex salernitana Cristian Chirieletti. Il presidente Corrado Chiodi ha dichiarato che la società Rosso Blu è disposta a sborsare 100.000 euro per il mercato, così il direttore sportivo Alessandro Battisti. Il lunedì mattina avremo sicuramente un incontro dove valuteremo la situazione in generale e complessivo. Noi intanto ci stiamo muovendo perché è importante potersi muovere con anticipo, però il lunedì mattina sicuramente con il presidente ci metteremo seduti e farremo il punto della situazione. Finisce qui la prima edizione odierna del TG6, le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Grazie per la visione!